Ragazzi, questa Lazio è una delle protagoniste di questo campionato, non si può assolutamente nascondere. Bentornati sul mio canale, battono anche il Napoli in Serie A. Dopo tre giorni li buttano fuori dalla Coppa Italia, 3-1, e oggi vanno al San Paolo e fanno una grande, grandissima partita contro il Napoli di Antonio Conte. Mi raccomando, like, iscrizione, campanellina per voler sollecitare l'algoritmo, il solito meccanismo. Una Lazio veramente con grande cuore, grande orgoglio, un grande Baroni. Sono una squadra veramente che gioca un calcio di qualità, dinamico, con grande atteggiamento, personalità da vendere. Una squadra che sta molto, molto bene in campo. Oggi ha sofferto, è stata una squadra molto compatta, cinica, attenta. Il secondo tempo Baroni ha cercato di mettere una Lazio un pochino più coperta dietro e poi ha trovato il gol con una ripartenza fatta benissimo. Isaac, senza salto di Veira, rientra sul sinistro, calcia una perla all'incrocio e fa esplodere il settore ospiti. È una Lazio, ragazzi, coinvolgente, che come vi dicevo negli ultimi giorni, quando gioca ti emoziona. Perché c'è uno spirito, c'è un progetto, c'è un percorso dietro, completamente fatto con le mani di Marco Baroni, che è un allenatore che stimo veramente molto. Il Napoli oggi ha fatto una partita così e così. È sempre un Napoli con grande cuore, grande determinazione, orgoglio, sacrificio, lo spirito di sacrificio che determina comunque molte delle volte i campionati di Antonio Conte. Perché non sono squadre che giocano un calcio eccezionale, non sono squadre che esprimono un predominio territoriale a livello proprio di qualità immenso. Cioè una squadra, anzi sono squadre quelle allenate da Conte, ciniche, compatte, che in transizione contro il piede fanno molto bene e sono letali. Oggi abbiamo visto una squadra sempre con grande cuore, con ovviamente l'ambizione di andare a vincere lo Scudetto, però un pochino molle, un pochino scarica, con poche idee. Un Lukaku che ovviamente nel big match non timbra mai, non si fa vedere, si è fatto anticipare un sacco di volte. Abbiamo visto un Kovara Schelia che ha cercato di dare qualche sprint, qualche uno contro uno, qualche apertura di campo anche per Politano interessante, però non è riuscito a performare a livello tecnico. Ha fatto qualche buona giocata, ma serviva, come diceva Pardo in regia, una sua giocata geniale per sbloccare la partita perché fino al gol di Isaksen era veramente molto molto equilibrata. Vedevo comunque un Lazio che stava meglio in campo su come gestiva e puliva i palloni e soprattutto nella riaggressione, però comunque il Napoli era in partita. Ho visto veramente un Kovara in difficoltà, quest'anno secondo me è l'unico giocatore che non sta performando come il primo anno alla fine e non sta performando secondo me come altri giocatori che sotto l'ala protettrice di Antonio Conte stanno veramente facendo bene. Nel Napoli un pochino così e così, la classifica parla che l'Atalanta ha 34 punti, il Napoli ha 32, Fiorentina, Inter e Lazio ha 31 e poi tutte le altre sotto, Juve, Milan, Bologna e via dicendo. Il campionato quest'anno è qualcosa di clamoroso ragazzi, ma perché è così? Perché la Fiorentina vince e gioca a calcio, è un allenatore secondo me che farà molto bene con la Viola. La Lazio sta giocando un calcio strepitoso, non perché gioca un calcio bello da vedere ma perché riesce anche a difendere molto bene ma difende con una pressione, con un lavoro dietro, con un sacrificio che secondo me in Serie A in questo momento forse solo l'Atalanta. C'è l'Atalanta che vola a ritmi elevatissimi, l'Inter dopo un inizio così e così sta trovando le corde giuste per tornare a competere. È un campionato incredibile, il Napoli oggi ha fatto un passo falso e non è il primo di questa stagione, adesso ci arriviamo perché il Napoli, raga, ha vinto contro il Milan il big match, però contro l'Atalanta ne hai presi te, contro la Juve 0-0 allo Juventus Stadium e contro, come cazzo si chiamava, ovviamente adesso mi sono dimenticato la partita, diciamo contro le big match, nei big match, perdonatemi per questi molteplici errori, non ha trovato la quadra giusta. In Coppa Italia con la Lazio hai perso anche se hai fatto turnover, hai perso oggi, contro l'Atalanta hai perso, con la Juve hai pareggiato, hai vinto solo contro il Milan. E quindi Antonio Conte secondo me deve settare la squadra per fare grandissime partite, soprattutto nei big match, e secondo me questo è un piccolo scoglio che deve superare il Napoli, che ovviamente è una grande squadra che sta giocando molto bene a livello di testa, di mentalità, eccetera, eccetera, però nei big match secondo me fa un pochino di fatica, uno perché è un'onda attaccante che segna, raga, Lukaku nei big match non dovete contarlo mai. Seconda cosa, Politano non è un bomber incredibile, Simeone entra e segna, ma è un giocatore normalissimo, e Kvaraskelia non ha più, almeno per adesso, nell'ultimo anno e mezzo, non sta facendo più vedere nel suo repertorio i grandi gol, comunque non lo vedi timbrare il cartellino una volta a settimana, è un pochino di alti e bassi. Quindi il Napoli deve stare attento a queste cose qua. Ho visto una squadra un pochino oggi confusa, sempre molto attenta dietro, con grande spirito, con grande Oliveira, grande Rachmani, buongiorno e via dicendo, ma non ho visto un Napoli concreto là davanti per questi problemini qui. Kvaraskelia così e così, Lukaku non timbra mai, Politano tanto stanco perché gioca sempre e diventa un quinto, e si fa 150 volte la fascia, difatti molte delle volte quando entra in area di rigore o trova lo spunto giusto, non riesce mai a calciare in maniera decisiva. Ho visto una grandissima punizione di Kvara, che ha sfiorato l'incrocio, quella è una punizione alla Kvaraskelia, non ho visto nient'altro da parte del Napoli. Ho visto tantissime cose invece da parte della Lazio, che sorprende sempre di più. Non vincerà lo scudetto, regà, non lo vincerà mai, a meno che le squadre tipo l'Atalanta per dire non si suicida, calcisticamente parlando, non succedono cose di questo genere qui. Però secondo me è clamoroso il lavoro che sta facendo Baroni, clamoroso, clamoroso, per come attaccano, per come difendono, per come stanno in campo. Vi devo dire una piccola chicca che pensavo durante la partita, e soprattutto negli ultimi 25 minuti, il Milan, anche se non c'entra tanto, ma rientra nel discorso Baroni, con Pioli, faceva queste partite qua contro il Napoli al San Paolo. I tifosi milanisti si ricordano delle partite in cui il Milan vinse contro il Napoli e fece delle partite così. Baroni mi sembra un pochino uno dei primi Pioli, non so come dire, forse è una bestemmia, forse è una mia, solo una mia, un mio svarion, una mia immaginazione così, però mi sembra che Baroni stia prendendo un pochino quel percorso lì, anche se credo che Baroni nel lungo è meglio di Stefano Pioli. Comunque era una mia piccola postilla da dirvi mentre guardavo la partita e pensavo a questa cosa qua. Io spero che il video vi sia piaciuto, complimenti ancora Baroni, stima totale per l'allenatore della Lazio, un Napoli un pochino così e così. Regà, Lazio 1, Napoli 0, in gol Isaksen. Ci sentiamo domani con il prossimo video. Ciao ciao!